Alte prestazioni, dimensioni ridotte e risultati immediati con gli analizzatori della linea veterinaria realizzata e prodotta da Gesan Production e distribuita da Gesan.com grazie all'esperienza maturata dal gruppo Gesan nel settore diagnostico in oltre 30 anni di attività. Gli analizzatori della linea umana sono stati ottimizzati per l'utilizzo in ambito veterinario, garantendo al professionista la possibilità di conoscere rapidamente lo stato di salute dell'animale in tappi compatibili con quelli di una visita specialistica. Top di gamma della linea veterinaria Gesan Production è l'analizzatore di chimica clinica Piccolo ChemVet, dotato di reagenti dedicati per analisi di routine. La linea veterinaria comprende anche gli analizzatori di ematologia Hemovet 3Dif e Hemovet 5Dif, a 3 e a 5 popolazioni, l'analizzatore di elettroliti LightVet Plus e il coagulometro ClotVet.